Ce l'abbiamo fatta! Abbiamo preso il Cosomac della pesca! Certo che l'abbiamo preso! Nessuno può fermare il super cattivo Warren Stone e il suo compagno e prestigiatore Hypnopatamo! Sono quelli là! Ok, ecco il piano! Raffa, rilassati! A chi serve un piano quando abbiamo dei fantastici poteri mistici? Leo! Andiamo, spade! È l'ora dei mortali! Ci vediamo dopo che avrò risolto il problema! Certo! Fermo! Dobbiamo lavorare tutti insieme!